Io non conoscevo Isherwood sinceramente, lo conoscevo come scrittore, l'avevo sentito nominare anche per il bellissimo film di Tom Ford tratto dal suo romanzo Un uomo solo, Single Man, però non l'avevo mai letto ed è stata, devo dire, una grandissima scoperta, anche perché è diverso leggerselo da soli e leggerlo per qualcuno, ha una scrittura cristallina dove un leggero senso dell'inonia come filo conduttore ti porta poi invece attraverso tantissime situazioni in questo libro che ne abbiamo letto, Addio a Berlino, molto invece umane, in ambienti molto diversi, dagli ambienti più poveri, agli ambienti più ricchi e raffinati, ai locali di Berlino, ci porta in effetti a scoprire Berlino come non la conosciamo, una Berlino alla vigilia dell'avvento del nazismo, ma davvero vissuta dal di dentro. Isherwood è da solo a Berlino e con degli amici, ma è solo quasi tutto il tempo e quindi stringe queste amicizie volanti con queste persone, ma poi lo vedi a girarsi da solo in una poverissima casa berlinese intorno agli anni 30 alla notte di Natale. La cosa veramente incredibile è essere portati da Isherwood in questo mondo. Con la delicatezza della sua scrittura riesce ad entrare in maniera così specifica nell'animo delle persone e dà vita a dei personaggi che ci fanno ridere, che ci fanno pensare, che ci fanno trasportano con la fantasia. C'è una galleria di personaggi immensa, noi ci siamo divertiti a cercare di dargli vita semplicemente accennandoli oppure riproducendo il loro accento tedesco molto forte. I personaggi che mi hanno divertito moltissimo, per esempio, sono due figure maschili, questo Herr Novak, che è un onesto lavoratore delle ferrovie, che torna a casa la sera e trova questa famiglia molto povera, che vive in due piccole stanzette e loro sono in cinque, è Isherwood che in quel momento è in una situazione di ristrettezza economica e decide di andare a vivere a casa loro, dividendo una delle due stanzette col figlio di questa famiglia. Quindi è una situazione estremamente povera, ma questo signore con questa sua sbadata e stanca, però tutto sommato buon'aria, allegria, con il suo buon umore cerca di tenere allegra tutta la famiglia. Questi due figli, uno completamente scapestrato fa il gigolò, l'altro che lascia il lavoro e diventa poco a poco un giovane nazista, questa figlia più piccola che sembra certe volte anche un po' ebete, comunque ride sempre a sproposito, è la moglie naturalmente, la Frau Novak, e lui al centro di questo microcosmo familiare che ride e ogni tanto sbevazza la sua birra. Un personaggio che mi ha colpito. Invece dall'altra parte della scala sociale, Herr Landauer, che è il proprietario di uno dei più grandi magazzini, è all'avanguardia, con dentro la sala dei giochi per i bambini, uno di questi posti che oggi sarebbero i grandi centri commerciali, dove dentro trovi qualsiasi genere di consumo da comprare. Quest'uomo che viaggia il mondo e che arriva da un viaggio d'affari da Londra, poi riparte per Parigi, che non c'è mai, ma che ha una grandissima cultura, ti sorprende per la sua cultura e per la sua lettura dei fatti, della realtà, della quotidianità. Sono di figure molto divertenti. Poi c'è naturalmente Froilan Schroeder, che è questa padrona di casa che lo ospita più riprese, perché Isher Wood va a vivere da un'altra parte, ma poi spesso torna da lei. Oppure, questa è anche la cosa bella, lui si affeziona a questi personaggi e va a trovarli. Per esempio questa famiglia molto povera, che non vede da tempo, ma decide di andare a fare visita e portare dei regalini per Natale, la sera di Natale. Ed è commovente, da una parte, per il suo slancio verso queste persone, per il legame che instaura, ma anche perché poi ci racconta anche della sua solitudine. Non è facile, anzi forse è quasi impossibile distinguere l'autobiografia dall'invenzione. Lo scrittore Isher Wood si mette in prima persona lì col suo nome e cognome, ma ci dichiara fin dall'inizio di essere lì per reinventare il ricordo nella scrittura. però la cosa che lui dice subito è, io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto, registro tutto e poi chissà, forse un giorno questa pellicola impressionata poi sarà sviluppata. Io ho cercato, diciamo, fin dalle prime righe di essere aperto e trasparente come una macchina fotografica alle immagini che a poco a poco si sommano l'una nell'altra, quindi a non cercare io di dargli un tono, un verso, un suono, qualcosa, ma aspettare che fossero loro attraverso la mia voce ad esistere. E questo è successo in molti punti della registrazione. Sorprendendo anche me, come dicevo prima, quando ci si diverte a dare un accento a dei personaggi, era una cosa che non avevo assolutamente pensato, ma poi ascoltando le loro parole, seguendo la costruzione delle frasi, e in questo Isher Wood è bravissimo, perché attraverso questo ti dà proprio la mentalità, il pensiero, lo stato d'animo, l'umore di questi personaggi. Nella lettura tutto questo poi veniva fuori e ci veniva restituito. Probabilmente se io avessi cercato di costruirlo io avrei fatto qualcosa di posticcio, invece così venivano fuori. E insieme ai personaggi anche le immagini, tutti questi personaggi sono ambientati a Berlino o nelle campagne attorno a Berlino. E sono molto belli perché sono molto lirici questi passaggi in cui lui descrive sia le architetture, che i boschi, che i laghi, che l'inverno, che i freddi, i ghiacci, il caldo. Tutto questo ci accompagna e prende vita sotto i nostri occhi. Questo libro è una vera e propria scoperta. Secondo me è completamente trasversale. Diciamo che da una parte è interessante perché è uno dei primi quasi reportage o viaggio dentro il mondo notturno di Berlino, che è un mondo variopinto, fatto di prostitute, gigolò, omosessuali, lesbiche, gente che vuole divertirsi, gente che è lì perché vuole essere libera. E quindi da questo punto di vista è molto interessante. Ma questo libro non è solo questo. Cioè è un libro che ha una grandissima scrittura. La prima dice è fantastica. E dunque non è un libro per qualcuno. Io penso che sia un libro veramente universale, di racconto dell'animo umano. Oltretutto ha un valore storico e di testimonianza fondamentale perché ci fa vedere come probabilmente non l'avevamo mai vista la Germania, soprattutto Berlino, vicini all'avvento del nazismo in cui però ancora c'è la polizia, c'è lo Stato che controlla, ma ci sono i nazisti da una parte e i comunisti dall'altra che cercano di prendere il potere.